Primo tempo, Real Sociedad, Malaga. Passivo 1-1, pareggio. Lotta. Siamo con Giuseppe Manini, capitano. Come sta andando il match? Stiamo andando discretamente. Cerchiamo di fare il nostro segno di secondo tempo. Cerchiamo di portare a casa questi tre punti, nonostante la prima sconfitta della prima giornata. Sì, sconfitta in pietrosa con Gio Barcellona. Sì, nonostante la mancanza del nostro portiere, ci ha penalizzati moltissimo. Cerchiamo di fare bene quest'oggi. Obiettivi? Obiettivo cercare di aggiungere magari tra i primi quattro boss. Per andare più avanti. Va bene, grazie, buona volta e buon carlovo.